È il 12 agosto del 1984. Per gli abitanti di Fano oggi è una giornata memorabile di quelle che difficilmente si potranno dimenticare. Oggi a Fano arriva il Papa. 35 anni fa c'è stata la visita di Giovanni Paolo II, Papa Boitila per tutti. Dopo 127 anni un Papa ha incontrato i pescatori e passato una mezza giornata assieme a loro. Una giornata che in molti è rimasta scolpita nel cuore e nella mente con la messa celebrata dal Santo Padre in mezzo al mare su di un pontone ormeggiato ad una trentina di metri dalla riva e poi a bordo di un peschereccio si è spinto a largo per gettare una corona in memoria di tutte le vittime del mare. La giornata franese di Papa Boitila iniziò quando l'elicottero bianco atterrò poco prima delle 16 nel piazzale del seminario Vescovile e poi a bordo della Papa Mobile la stessa sulla quale subì il vile attentato tre anni prima ma dotata però di una copertura antiproiettile lo portò lungo via Roma verso il Pincio dove erano schierate tutte le massime autorità e poi lo attendeva il calore e l'accoglienza dei fanesi. Peccato che a distanza di 35 anni solo fanno tv si ricorda del fatto perché almeno da parte di altre non mi risulta che abbiano questa memoria. 35 anni sono tanti è passata una vita ma era è stata una giornata memorabile indubbiamente. Io ricordo sempre quando con il motopesca Cigalin siamo sfilati sotto una corvetta militare e i marinai tutti alla banda a urlare urrà e tirare in alto i berretti. Ma il contatto diretto con la gente il Papa lo ebbe quando fece rientro al porto dopo la deposizione della corona atteso da una grandissima folla siepata sui moli e decise prima di sedersi a tavola di fare lunghi giri fra i tavoli salutando i pescatori e poi con la cena seduto tra quelli più anziani. Quando abbiamo fatto l'invito l'idea vincente è stata una giornata con i pescatori perché altrimenti non aveva senso che il Papa venisse a visitare una città. Invece una giornata con i pescatori il Papa l'ha accettata immediatamente vivere questa mezza giornata a contatto con la gente di mare perché oltre la messa abbiamo avuto questa famosa cena fatta sul molo e quindi lì che i marinai hanno cucinato l'arrostita.